buon ciao a you benvenuti a tutti dall'amichevole nonno della rete da fra e dai nerd street per una nuova puntata del format che vi manga che poi nerd saremo noi nel senso non è che no perché sennò sembrava che ci sono altri due che devono entrare no vabbè però c'era era una gag no c'era proprio i nerd street diciamo siamo noi i principali però chiunque si può entrare qualsiasi persona tipo pino ninni non saverio entrerà anche saverio ci darà un video con i nerd street con saverio però adesso parliamo di manga sono uscite tante novità tanti numeri 1 molto interessanti qualcuno l'ho portato io singolarmente come persona adesso vi portiamo io e fra una novità che è planet of the force e poi molto probabilmente uscirà anche il video o di maschile faremo anche quella che più oltre ad essere una recensione è più una reazione cioè dopo averla letto un po le sensazioni quello che abbiamo capito e soprattutto la prima lettura se io l'ho letto proprio a posto una volta per avere idem come come mi è sembrato incasinatissimo diciamola il primo impatto molto 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 incasinato proprio vabbè io so ho già qualche strascico tramite eden e partiamo dalla base o pride of the force è un fumetto disegnato e scritto da i rocchi endo autore conosciuto in italia soprattutto per eden ha fatto anche altri fumetti vuol uscire d'italia però diciamo il boom esagerato e tramite tramite eden sempre edito della planet manga a 7 euro abbiamo questo fumetto con la sovracoperta ormai si diciamo che ormai rating della panini 7 euro però ci da una bella sovracoperta dovrebbe essere quattro capitoli hanno tre capitoli però grossi uso attacco on titan perché ogni capitolo va beh il primo tipo sono circa 82 pagine e l'altro sono altre 80 pagine perciò a pensare che ne so one piece che ogni capitolo 18 pagine se ci arriva se ci arriva si è un seinen tranquillamente è un seinen e qua c'è scritto fantascienza estrema è anche abbastanza brutale nel senso dall'autore di eden mi inizia soprattutto alcune scene che poi ne andremo a parlare vai inizia tu che spieghiamo un po la trama la trama ci troviamo su una stella nel senso su un pianeta che per ragioni di memoria non vi starò qui a dire per non me li ricordo però dovrebbero essere praticamente credo che sia inteso come tipo la realtà molte galassie con vari pianeti tra cui terra e c'è altri tipi di altri tipi di piano mondo abbastanza futuristico e molto futuristico diviso in due categorie ci sono principalmente i terrestri e sono le persone che abitano quel pianeta e i sars e i slars nell'incontrario i slars sono gli abitanti col pianeta e gli indigeni sono i terrestri da quello che ho capito ma quello lo dicono dopo tu pensi dato che lui spiega che il 70 per cento delle persone sono terrestri e il 30 per cento slars è così nella scuola dove dove ci vivono sì sono sono così in realtà poi veniamo a scoprire volevo dire che però sono praticamente i terrestri che cercano di colonizzare il il popolo degli slars quando invece appunto gli slars sono in quel caso sono i ribelli che vogliono autogovernarsi e auto diciamo mantenersi sul pianeta vogliono mantenere loro le loro risorse ok è un po come quello che facciamo noi occidentali con l'africa sì veniamo a conoscenza sin da subito del protagonista scinta era che è uno sangue misto sì partiamo già con il con il già con il sangue misto sì no perché non lo faccio perché vi volevo trovare tutti i riferimenti che ho visto io il fatto delle dei vari mondi l'ho detto io questo l'ho visto con star wars proprio i passaggi da un mondo all'altro la velocità delle macchine i vari le varie macchine enormi viaggiare tra una parte e l'altra quello l'ho visto su star wars mi è sembrato star wars oppure facciamo i guardiani della galassia per rimanere ancora più in ambito fumettistico molto guardiani della galassia e nello stesso momento a livello manga mi è sembrato tantissimo samurai hate livello di sporco nella trama livello di ampice pienezza del primo volume le tavole bianche le tavole bianche si molto molto non dettagliatissime da cioè da riempire qualsiasi poposcena molte si vedete come potete vedere il cielo rimane molto bianco senza troppo un piccolo è praticamente veniamo a conoscenza appunto come ho detto del nostro protagonista che ci andrà a spiegare che è praticamente un ragazzo bullizzato come quasi tutta la sua specie nella scuola per via delle praticamente le loro mani perché poi principalmente il problema principale che vediamo sono le loro mani che sono macchiate sono tipo a macchia hanno tipo due colori nelle mani tipo come ragazzi che hanno meno melatonina in alcune partite al corpo e quindi sono tipo maculati e vengono praticamente bullizzati si vengono praticamente bullizzati da tutti quelli della scuola di non toccare le cose non giocare con le stesse con le stesse cose che usano anche gli altri perché potrebbero infettarli quando invece non è così vabbè le solite le solite robe da bulli da da stupidi da stupidi infatti Planet of the Force giusto per dire vuol dire proprio il pianeta degli stupidi degli stupidi perché invece secondo me il titolo viene dato proprio invece di convivere insieme si fanno guerra mentre lui ha detto il riferimento a samurai hate io ho trovato un riferimento molto plateale a attack on titan tanto che ishiyama gli ha fatto la copertina cioè la copertina gli ha fatto diciamo quel tipo di promozione sul primo volume uscito in giappone perciò non credo che questo sia perché io ho preso l'idea no però 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 il fatto pure il fatto di o perché poi andremo a scoprire che o no gli erdiani che gli slars e gli slars hanno pure dei poteri sì sì possono avere pure dei poteri che vengono dati da delle mutazioni hanno delle minime trasformazioni scusate troppo vedi questa è questa qui si sembra praticamente un gigante sì sì esatto sì almeno è per quello dicevo ma poi pure la trasformazione in questo in questo punto qui si vede uscire la colonna vertebrale che tutti sanno cosa è in aut in aut questo vuol dire che sia un plagio anzi a mazzo può essere diciamo un chiamasi ricordiamocelo un tributo un tributo si a un manga che comunque ha fatto la storia in quel poco che ha fatto c'è in quel poco tempo ha fatto la storia si fighissimo è quello che ho dal 51 io porterò io porterò appena finisce una bella recensione sul mio punto di vista parlando invece di front of the force che succede tramite diciamo un incidente perché non andiamo a fare troppi spoiler però diciamo tramite un incidente il nostro protagonista perché lui vive insieme allo zio non si sa le sue origini perché lui come abbiamo detto un sangue misto vive insieme alla cugina che è trattata come una sorellona per vari accadimenti andiamo a conoscere diciamo la banda della rivoluzione o l'esercito diciamo che poi andremo a vedere sarà i ribelli quelli che vogliono andare perché in questo pianeta è un po' un casino perché e ci sono troppi nomi nuovi tutte robe tutti i nomi inventati perciò di ogni macchina motorino un nome specifico inventato la spada o tante cose tra cui ci dovrebbe essere questo minerale molto famoso molto importante dove diciamo è monopolizzato dai terrestri però ricordiamo che il pianeta è lo degli slars quindi è un po' a chiarire perché in questo volume vi dico che non c'è niente sul passato non c'è nessuna spiegazione è un fumetto che ti acchiappa frontalmente con un sacco di accadimenti perciò è un susseguire di accadimenti che a primo impatto come vi ho detto è un casino io quando l'ho letto è tipo la prima volta che ti vedi Matrix la prima volta che ti vedi Matrix secondo me è difficile da comprendere poi con la seconda visione riesci più a capire piano piano tutti i vari il vario mondo i vari personaggi perché per come però quello lo scopri con il secondo e il terzo capitolo per dire Matrix e qua io penso che ovviamente i prossimi volumi andremo a scoprire che è la base di ogni cosa hanno parlato cioè poco e niente si è cercato di capire dove vuole andare a parare nel senso che cosa dovrebbe succedere nel manga però si sa poco e niente di quello che è successo prima o durante sì sì o succede questi eventi che non vi vado a spiegare e lui ottene questa mutazione tramite un oggetto che questo pugnale che gli hanno dato che è un regalia è un'arma diciamo mitologica che poi questi ribelli vogliono si vogliono accumulare questi belli fortissimo ovviamente proprio forti si è e lui è uscito già il primo secondo me uno dei primi grossi nemici si si ma poco forte anche se che poi veniamo a scoprire che è una guardia del corpo lui pensa e siamo soltanto la c'è anche il fratello si 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 che era sempre forte si vediamo ah è vero vediamo anche uscire uno squadrone già uno squadrone per combattere e sappiamo e scopriremo anche che lui avrà un padre si 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 dove viene diciamo ho chiamato bastardo che poi bellissimo tra tutti i nomi che vi giuro se voi vedete il film vedete scusate i video di Aldo Giovanni e Giacomo vi ritroverete tantissimo tra Fedor figlio di Khmer e poi c'è il padre che si chiama Riccardo cioè è stato geniale io quando ho letto il padre si chiama Riccardo ha detto vabbè che poi ha il nome ha il nome da terrestre anche se non credo sia lui il terrestre mi sa che era la madre no 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 perché dicono il fatto che comunque lui è un misto eh si quindi uno e due deve essere per poi però dice che il bastardo è Riccardo eh ma ci starebbe come terrestre poi non so se poi non lo so figo anche se poi il fratello non lo è quindi non credo perché lui è il fratello originale lo zio si è il fratello di sangue quindi no penso che sia il contrario ok direi una creditata comunque lui becca questa mutazione e ci salva si salva diciamo non muore per via dei ribelli sì sì ovviamente il nostro protagonista sarà superiore a tutte le altre trasformazioni cioè ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri eh anche diciamo bella quella è una parte veramente bella quasi dispera dopo diciamo l'avvenimento sì l'evento principale che cambia che cambia il destino del la morte di Krillin sì ma è stato è vero però è bellissimo il fatto proprio di ripetere mille volte non sono riuscito a proteggere e poi ma giuro che vi vendicherò e perciò partiamo con un bello manca di vendetta sì veniamo a scoprire che c'è una federazione interplanetaria che per quello che ho detto mi sembrava molto staro cioè mi hanno preso anche se tu vedevi un sacco delle cose che... eh ma pure in Guardiani c'è una federazione sì 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 e per quello che dicevo sì 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 la prima volta che io vedo uscire deve stare nel film che figo che figo sì perciò io l'avevo paragonato tra Guardiare Galassia e Attack on Titan e in più ho scoperto il fatto di questa di questa curiosità di Shiyama che c'era da aggiungere niente bello i disegni ah beh penso che l'avete visti sono bellissimi la trama è molto intensa una cosa brutta che sono usciti pochi volumi però in Giappone perciò eh quindi saremmo molto in ritardo credo sulle uscite eppure Eden ci ha messo tantissimo a finire è un manga molto elaborato però... però speriamo che nel senso anche se esatto uno ogni sei mesi però no ma anche se fosse così l'importante è che rimane però un manga ben elaborato ha sentito ben costruito così tanto che comunque devi aspettare devi aspettare almeno aspetti bene nel senso non tre mesi per niente vuoi aggiungere altro però? eh no personalmente è un manga che continuerò perché mi ha intrigato molto cioè mi interessava molto l'ho letto anche abbastanza molto velocemente io non ho avuto difficoltà no neanche io no dico nel capire i momenti in cui si intercambiavano se le persone no no molto anche te non ti spiega niente no 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 però per fortuna come hai detto il disegno è fatto bene quindi riesce a capire chi dide tanti anche se poi loro tra di loro si somigliano molto quelli che si trasformano quindi poi hanno tutti i segni in faccia tutti i vari i vari fatti che quando si trasformano c'erano tutti questi segni neri tra sotto gli occhi ma anche se c'è quello comunque si distinguono tra di loro eh quindi si i segni neri della pietrificazione e in più poi vedremo che oltre a trasformarsi ci sanno varie mutazioni varie livelli di trasformazione demonizzazione ok e alla fine sono demonizzati e in più prendere anche l'armatura vabbè ma questo e poi la copertina e poi era figo il fatto che ha l'occhio qua bianco però l'occhio c'era pure la spada molto comunque interessante io credo di non seguirlo per via delle troppe letture delle troppe letture penso dire come l'anno più avanti perché ho pure una wishlist che sto seguendo e vi porterò che quello sicuramente lo farò insieme anche ad undead unlock però forse lo prenderò quando sarà più in corso così vi farò vi porterò anche il secondo io nel caso si fateci sapere nei commenti vediamo se io ho detto lo continuerò vi posso dire se migliora o rimanistarlo anche nel secondo non ho proprio idea e niente raga consigliato secondo me secondo me come prima lettura gli do un buon otto sì consigliato come prima lettura perché è uno che vuole iniziare secondo me non è un manga per iniziare no 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 ho capito quello che intendevi però poi prima lettura leggo soddisfatto disegni 9 storia 8 perciò diciamo insieme 8 e mezzo sì sì ci sta ci sta personaggi character design io mi stai fermato sull'8 in generale però sì figo però il fatto è che è stato spiegato molto molto bene essendo tutto un mondo nuovo detto questo raga fatemi sapere il feed sia per il video sia per o per il manga se l'avete letto o no e qualsiasi cosa scrivete nei commenti se volete recensioni o altri video sul mondo sul nostro fantastico mondo dei fumetti ai giochi passando per musica e film ogni giorno esce un video o quindi iscrivetevi mettete like o link in descrizione se ci volete contattare o basta un ultimo spoiler hanno addirittura un dialetto c'è hanno proprio una lingua loro quindi molte volte costo 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 esatto quindi molte volte è pure utilizzato quindi è per quello che mi ha sempre dato di più di cioè mi ha dato tanto di star wars si ma ha fatto veramente bene c'è pure un dialetto ma ho di imparare pure quello noi vediamo le persone che impareranno quelle inizieranno a parlare così che figo lo slarsiano ok raga spero che vi è piaciuto il video ci vediamo al prossimo dall'olno da fra è tutto linea no me la voglio grazie grazie